Il cane è una signora del palazzo a fianco, è una persona che ama gli animali, tiene con molta cura questi cani. Purtroppo è sotto shock perché non si spiega come mai questo cucciolo si sia buttato dal balcone. Mi dispiace per la signora, mi dispiace per il cane, insomma è una situazione un po'... non è bella insomma tutto quello. Ho sentito due donfi molto forti e niente, sono uscita e c'era la signora e il cane sdraiato per terra. La signora fortunatamente è stata, subito sono arrivati sia in polizia sia in autoambulanza, subito, subito. Il cane purtroppo se ne sono fregati altamente perché il cane era vivo. Il cane era vivo, però non hanno fatto in tempo a salvarlo. La donna è incinta? È caduto sopra una donna? In realtà l'ho saputo adesso, in realtà vedendola non me ne ero neanche resa conto che la donna era incinta. Però sentendo anche gli altri adesso ho capito di sì. Grazie.